Si è tenuto ad Altamura, a Palazzo di Città, un incontro per definire il passaggio di consegne in merito all'appalto dei rifiuti fra la Tecno Service, azienda giudicataria, e la Tradeco che gestiva in precedenza il servizio, in primo luogo per stabilire le modalità di riassunzione dei lavoratori e solo in una fase successiva del cantiere. Hanno partecipato i rappresentanti dell'azienda, i sindacati a tutela dei lavoratori e il segretario generale del comune di Altamura, Antonella Fiore, che ha assunto ad interim la direzione del servizio ambientale, oltre al responsabile unico del procedimento, il segretario dell'Unicam, Francesco Paolo D'Amore. Dal 16 febbraio prossimo sarà attivo il nuovo servizio di raccolta e gestione dei rifiuti in sette comuni della Murgia, oltre ad Altamura, Gravina in Puglia, Santeramo in Colle, Poggiorsini, Cassano delle Murge, Toritto, Grumo Appula. La Consip aveva giudicato a giugno 2017 l'appalto di sette anni alla rete temporanea di imprese con capofila Tecno Service per un importo complessivo di oltre 130 milioni di euro rispetto a una base di partenza di 143 milioni. L'azienda seguirà le attuali modalità di raccolta dei rifiuti per 90 giorni di start-up, come previsto dal contratto sottoscritto il 16 gennaio scorso presso l'Agenzia regionale dei rifiuti.